Ed eccomi in compagnia della grandiosa Shanty Miller che mi ha coinvolto in questo viaggio, in questo concorso Master Queen 2018 e anche nel prossimo Master Queen 2019 Noi stiamo organizzando già il concorso per l'anno prossimo e naturalmente ci saranno anche piccole magazine a punto tv a seguire la diretta Non è vero Shanty? Sempre loro che ci seguono, sempre, quindi sono già loro confermate e vi ringrazio veramente molto per tutto quello che fate per noi Tutto, 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 sapete come sono, sono molto emozionata, quindi è questo è Volevo ricordare comunque che come è andata la serata, molto bene, la gente si è divertita molto, molto, molto E complimenti di nuovo alla vincitrice di Miss Congeniality 2018 Allora Shanty, devo farti una domanda Chi era la tua preferita stasera? Sei serio? No, sinceramente io non posso dare, non posso dire La mia preferita è Cataldo, eccola qua No, sinceramente tutti hanno dato il massimo e tutti sono state bravissime, veramente Quindi non c'è una preferita, la cosa che mi piace è loro e che danno il cuore a quello che fanno Quindi grazie di nuovo per tutto, volevo chiamare una persona molto, molto cara Giusva con noi, vieni Eccolo qua Giusva, ciao! Ciao! Sei direttamente in diretta con Piccoli Magazine È stato un bellissimo spettacolo stasera, bello, divertente, solare, gioioso, senza pregiudizi e con dei temi importanti perché quello sulla violenza sulle donne è un tema importantissimo che non bisogna dimenticare Assolutamente, e quindi sei stato molto contento, divertito? Siete state tutte bravissime nell'arte, è difficile fare gioia e divertimento e voi avete portato la parte più bella di quello che è il teatro in un palco come questo, quindi grazie Grazie, grazie mille Giusva, grazie! Ciao! Ciao, ciao, ciao! Ciao, ciao!